Antonio Petraroia, mercatino dell'usato campo basso Manchester United, insomma vi state ben comportando, c'è stato un bel pareggio contro il Chelsea. Sì, è stata una bella partita, siamo andati sotto 4-1 il primo tempo, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare, meno male, siamo riusciti a pareggiare. E siamo stati anche un po' sfortunati alla fine, ci siamo mangiati un gol fatto diciamo. Ecco, siete una squadra davvero rognosa perché vi difendete alla grande, tu sei stato anche, oltre a essere miglior difensore, ma anche il top della seconda giornata, quindi voglio dire siete ben organizzati sul campo. Sì, perché come ha detto anche Manuel la scorsa volta siamo 4-5 ragazzi che lo facciamo ogni anno e quindi bene o male sappiamo un po' il gioco, come si comporta e quindi lo sappiamo fare diciamo. Obiettivo Champions? Speriamo. Comunque siete nei quartieri alti della classifica? Sì, sì. Speriamo che Manuel torni, così ci può dare una mano anche con i cami perché anche oggi a tre persone non si può giocare così. Ecco, fantacalcio comunque avete regalato parecchi bonus sia in fase difensiva che offensiva, anche Antonio Zappone ha segnato tanto. Sì, Antonio insieme con Manuel si trovano bene, anche lui la trova spesso alla porta e ha fatto anche tanti gol finora. Un'ultima cosa, vi state divertendo? Sì, tantissimo. Un'accoglienza perfetta, tutto perfetto, bello, bello, davvero.